Ad Alexei piace molto l'idea del progetto il mondo intero ed è già un membro della nostra community. Ma c'è un piccolo problema. Sembrerebbe che Alexei non abbia molti amici e che non sappia come invitarli. Fortunatamente nel progetto è inserito il sistema Business Machine, che permette di trovare nuovi partner senza doverli invitare personalmente. Ogni giorno migliaia di persone da tutto il mondo visitano il nostro sito. Molti di loro vengono a conoscenza del progetto attraverso open source e si iscrivono al sito spontaneamente, senza diretto invito dai membri. Queste iscrizioni vengono distribuite automaticamente tra i membri che hanno attivato il servizio Business Machine. Il servizio è attivo per un mese. Alex ha già attivato Business Machine per luglio, riservando per sé un posto. Cristina e Mark hanno iniziato a seguire Alexei, riservando rispettivamente 5 e 10 posti. In questo modo, per tutto luglio, il sistema Business Machine distribuirà i nuovi iscritti, registrati senza invito diretto, tra i posti riservati ad Alex, Mark e Cristina. Ed ecco che arriva luglio. Le prime iscrizioni libere sono già state memorizzate nel sistema ed immediatamente distribuite tra gli iscritti alla Business Machine. Per avere una distribuzione equa e per evitare che gli iscritti accelerino il lavoro della Business Machine utilizzando falsi account, ad ogni nuovo ciclo tutti i posti in coda vengono riordinati in modo casuale. La Business Machine non smette mai di lavorare e continua a distribuire le iscrizioni libere tra Alex, Mark e Cristina per tutto il mese. Luglio è giunto al termine e si possono tirare le somme. Alex, che aveva attivato un posto nella Business Machine, alla fine del mese si ritrova con 100 nuovi partner. Cristina, che aveva attivato 5 posti, adesso ha 500 nuovi partner. Mark, invece, avendo attivato 10 posti, ora ha 1000 nuovi partner, 10 volte quelli di Alex. Resta solo da insegnare ai nuovi partner le caratteristiche del progetto, il mondo intero e la crescita della partnership non si farà attendere. Volete trovare nuovi partner senza invitarli personalmente? Basta attivare il sistema Business Machine.